Ben trovati dal Tg della mobilità Centocelle, via De Castani, chiusa al traffico da via De Glicini a piazza San Felice da Cantalice, deviate le linee C5 450 542, intanto in centro invece è stata annullata la manifestazione prevista nel pomeriggio in piazza dell'Esquilino. E' tutto per questa edizione. Grazie